riscaldamento riscaldamento siamo in zona qua siamo, siamo 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 ciao ciao fra dove sono i stivali? la tutina il casco sicuramente pensavo che anche domani mattina ci fosse che allenamento sinceramente io sono appena arrivato mi stavo scaldando un attimo mi asbaglia quando andiamo su da qui? dai scuola qui vai a casa prendere il stivali e cazzo dai quando andiamo? vediamo studia studia con passare tutto scatto non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No? Terzo? Facciamo un triplo Luigi. Mi piace il triplo? Non lo so se è fattibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi ha distratto verso la caduta di Michele. Com'è Michele? Non si fa? No, 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 no. No, 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 no.